Una domenica a due volti per il calcio locale. Da una parte la vittoria della Vispesaro, che vincendo 1-0 sul campo del Mantova, si regala la salvezza. Dall'altra l'alma Juventus-Fano, che pareggiando 1-1 nel match casalingo contro la Triestina, è costretta ai play-out. Tripudio bianco-rosso che, con i tre punti conquistati ieri, ha la certezza di poter giocare anche il prossimo anno nella stessa categoria. La consapevolezza è stata un'arma importante per la Vis, e Mister Didonato, al termine della festa, analizza così la partita. L'avamo preparata bene, avevo detto ieri che stavamo bene, avevamo fatto una settimana importante, eravamo consapevoli dell'importanza. E alla fine penso che abbiamo meritato ampiamente sia la vittoria, ma soprattutto questa salvezza. I complimenti sono tutti da fare a questi ragazzi che hanno fatto veramente un campionato strepitoso, difficile, un campionato difficile. E siamo la città, la società deve essere orgogliosa di aver avuto nel loro organico questi splendidi ragazzi che ci hanno permesso appunto di portarci la salvezza. Sicuramente mi aspettavo oggi di chiudere il campionato. Avevo visto una settimana i ragazzi veramente molto bene, anche ieri gli avevo detto. Siamo bene, quindi oggi andiamo liberi di testa, perché se siamo quelli dell'ultimo periodo non dobbiamo temere nessuno e così è stato. Salvezza invece è ancora tutta da conquistare per l'Alma Juventus Fano, che per ottenerla dovrà superare gli insidiosi play-out. Mister Tacchinardi, rattristato dal risultato, è convinto però della tenacia dei suoi giocatori per il rush finale. Oggi la squadra ha dato tutto, ha fatto il massimo, ha fatto una grande partita. Abbiamo creato, è normale che poi escono tempo la forza di questi giocatori, la qualità, l'individualità di questi giocatori qua altissima, però onestamente siamo stati penalizzati su un piazzato ed è un peccato. Fa male, fa male perché la squadra con le sue qualità sta provando a sputare l'anima in tutte le partite. Per quanto riguarda il basket, sconfitta soporifera per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, che pur perdendo a domicilio contro l'Olimpia Milano, riesce a salvarsi grazie al passo falso di Cantù. Una buona prestazione della VL, che dopo esser stata in vantaggio per larghi tratti del match, non riesce a portare a casa il risultato sperato. Finisce 88-81 per Milano, ma coach Repesa fa comunque i complimenti alla sua squadra. Contro squadre come questa, se sono aggressive, se non ci sono buoni blocchi, se non c'è buon timing, se non ci sono buone spaziature, se non c'è fluidità in attacco, se non si muove palla veloce, sai fa fatica perché sicuro è una squadra creata per Eurolega, per qualche pezzo tra importanti, ma sicuro questi con grande valore, è così, fai fatica se non ci seguono le cose come si devono seguire. Io non sono soddisfatto, ma onestamente da nostra parte posso dire che ognuno ha provato a dare il suo dovere o potere in questo momento facendo un errore di più, è così, è così. Sicuro queste partite senza giocata una partita perfetta non si vincono mai contro avversari come questo, tutto sommato una partita solida, molto solida da nostra parte e andiamo avanti.